Anche per la sua seconda edizione, il Fichi Festival, presentato dal Consorzio di Tutela Fichi di Cosenza DOP, registra un notevole successo e un'ampia partecipazione di pubblico e visitatori. Dopo una giornata dedicata al press tour tra i ficheti e le aziende di trasformazione, a cui ha partecipato anche il caporedattore del TG5, Gioacchino Bonsignore, la seconda giornata è stata dedicata alla parte convegnistica e ai succulenti show cooking. Si chiude dunque con un bilancio positivo, una ricchissima due giorni dedicata al delizioso frutto, così come ha sottolineato la Presidente del Consorzio, Anna Garofalo. Abbiamo iniziato con un press tour con dei giornalisti no gastronomici, siamo andati nei vivai, poi nelle aziende agricole e infine nella fase della trasformazione, quindi abbiamo fatto vivere un po' l'esperienza di proprio da come nasce il fico a come viene poi messo sulla tavola. Tantissima gente, sono stati momenti bellissimi, molto sentiti da parte di tutti, molto partecipati anche durante i convegni e le tavole rotonde, quindi insomma tanto interesse devo dire, anche la parte dei cooking show bellissima, tutto bellissimo, siamo veramente contenti. Il Fichi Festival edizione 2023 è stata una grande festa, i fichi di Cosenza DOP sono un prodotto di successo che la Regione Calabria ne fa da garante, insieme alle altre eccellenze di Calabria. Stasera siamo in un contesto nel quale festeggiamo il nostro prodotto di qualità, il fico DOP dotato della provincia di Cosenza, che è un prodotto di qualità, quello trasformato, ma stasera ho anche detto che vogliamo puntare sul riconoscimento del fresco, che è altrettanto buono, che è naturalmente problemi di conservazione, ma oggi con le tecniche moderne naturalmente noi dobbiamo ambire a superare anche queste problematiche. E poi dobbiamo mirare ad una promozione, a un racconto di un territorio, di un prodotto che sono combinati e che devono avere l'ambizione della qualità. Lo ripeto spesso, ma questo deve essere il mantra per ognuno di noi, per una Calabria che ha un agroalimentare di nicchia e che in tutti i settori comunque deve puntare a un miglioramento della qualità, della produzione, della trasformazione, dell'offerta, anche della presentazione del prodotto. Tutto questo credo che sia venuto fuori stasera in una Calabria che ha bisogno di alleanze interne, non deve essere disgregata, perché un po' disgregata lo è, e ha bisogno, come è stato capace di fare il consorzio in questa circostanza, di trovare alleati all'esterno e credo che Gioacchino Bonsignore, ma anche la gentile conduttrice della serata, credo che possano essere domani, avendolo scoperto, alleati di un prodotto di grande rilievo e di grande qualità. L'appello che sia l'assessore Gallo ha fatto, che sia io per la parte tecnica abbiamo fatto, è che il sistema della trasformazione debba collaborare col sistema della produzione. Se questo avviene, questo prodotto, che è un prodotto eccezionale, che è un prodotto figlio di un elemento immateriale, la DOP che cos'è? Un riconoscimento immateriale di storia, di stratificazione della storia, e soprattutto della tradizione calabrese nei fichi, che avevano le famiglie e che noi siamo riusciti a trasformarli in un elemento di economia reale. Questo aspetto è un aspetto che deve essere sempre più rafforzato, il consorzio sta facendo bene, deve fare ancora meglio per includere tutti i produttori, nessuno può rimanere fuori dal consorzio.